Anche a Teramo, presso il Parco della Scienza, si svolgerà lo Spencer Day 2015, l'open day annuale dedicato ai professionisti e ai volontari dell'emergenza sanitaria, quest'anno per la prima volta nel Teramano. Nell'ambito di questa giornata ci sono tanti eventi, tra cui quello più importante è la disostruzione pediatrica, il corso riservato ai cittadini, che l'hanno richiesto vivamente dopo già un appuntamento fatto su Teramo. In collaborazione con Due Mani per la Vita, verrà svolto nel pomeriggio alle 3 e subito dopo c'è una simulazione con le forze impegnate sul campo per quanto riguarda l'incidente stradale, quindi dall'ambulanza, vigile del fuoco, polizia stradale. La partecipazione è gratuita, obbligatoria solo l'iscrizione, giusto? Sì, è obbligatoria solo l'iscrizione che si farà al momento. Con l'acquisto di tre ambulanze la Croce Bianca ha raggiunto quest'anno un importante traguardo? Sì, è un rinnovo parco mezzi, chiaramente due vanno a sostituire i mezzi di Teramo, mentre una che è 4x4 va ad implementare il parco mezzi della sede di Montorio. Questa ambulanza verrà impiegata nella zona montana, dove Montorio ha competenza. Chiaramente è un costo elevato che è il frutto del lavoro dei volontari. Questa è una manifestazione che la Spencer organizza ogni anno, a livello mondiale, perché la Spencer è un'azienda comunque internazionale. Hanno chiesto a noi di organizzarla a Teramo, quindi una delle città italiane in cui verrà effettuata questa manifestazione. Noi con grande soddisfazione comunque siamo qui pronti per celebrare sia la Spencer che il soccorso. Ci sarà anzitutto alle 9 l'apertura degli stand con cui la Spencer in pratica mostrerà a tutte le associazioni, a tutti quelli che vorranno partecipare, i nuovi ritrovati dei presidi medicali di loro fattura. A mezzogiorno poi noi come Croce Bianca inaugureremo tre nuove ambulanze, che tra l'altro sono comunque equipaggiate con materiale Spencer di ultima generazione.